A poco meno di un mese dalla nostra segnalazione che ha messo in evidenza la presenza incontrata a Malvizio della pericolosa discarica abusiva, che cosa è stato fatto? Le migliaia di pneumatici, bidoni di inguinanti oli e gli altri materiali pericolosi depositati selvaggiamente lungo il corso del fiume Naro sono ancora presenti sul sito. Subito dopo il nostro servizio è andato in onda lo scorso 27 dicembre, l'assessore comunale di Favara Sorce si era interessato del problema, convocando tutti gli organi preposti alla risoluzione del problema che lo scorso 4 gennaio ha visto sul ponte Malvizio i responsabili di AIPA, ASL, Genio Civile, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Carabinieri, Corpo Forestale e Tecnici dei Comuni di Favara e Naro effettuare un sopralluogo che ha portato poi il giorno dopo al sequestro dei circa 30.000 m2 di area adibita abusivamente a discarica. Da allora, lo scorso 10 gennaio, i carabinieri della tenenza di Favara hanno consegnato i documenti relativi alla discarica alla Procura della Repubblica di Agrigento, titolare dell'inchiesta. Ma il solo sequestro dell'area eliminerà l'elevato rischio di inquinamento ambientale che minaccia i terreni attraversati e limitrofi al fiume Naro, le cui acque spesso sono utilizzate dai contadini per irrigare i campi? A chi di dovere le devute risposte.